Il mio intervento si è incentrato sui contratti di efficientamento energetico nei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi sulla modalità con cui devono essere effettuate le gare pubbliche e sulle modi di contabilizzazione delle medesime, stando in particolare attenti alla stretta qualificazione del contratto di parternariato pubblico privato che attualmente è molto limitata. Grazie